Poi magari spieghiamo che cos'è il burlesco, che qual'è il significato del burlesco, in effetti è una furba, la ironia, ironizzata sul senso di senso, no senso no, la bellezza per la vita, ecco, e poi ci sarà la discoteca, dopo le 10.30 a 11.00, ma quante persone che ci stanno raggiungendo, secondo me la villa non basta, non basta. Nello di Napoli, sud-west, referente dell'area Campania, qui vicino a me, vicino a Fissia. Netti, gli after-brows hanno fatto il check, quindi noi tra un poco possiamo anche cominciare con la loro prestigione, quindi la parte artistica sta ben a avere inizio di questo sabato, di questo moderatore, di questi tre giorni del Fife Fest, della prima volta a Castella Mare, di Stabia. Bello, raggiungimi, intanto volevo ringraziare i World Normans di Casetta, la loro amicizia e la loro amicizia per l'anno, presentatevi, vai! Presidente, Presidente, ma se non mi può essere ritorno in tutto, non mi percepiamo tutti, no? Come si fa? Dai, 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 un pochino, vada, dai! Eh, va bene, io ho fatto un po' di domande. Brabri, 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 brabri. La sezione Campania, qui abbiamo il grande referente della sezione Campania, il mio amico, fratello, unico, unico. Unico e solo, unico e solo. Guardatevi, guardatevi. il nostro caro presidente aiutami alto alto